Ciao a tutti ragazzi, qui per la normal comics e benvenuti in questo nuovo video benvenuti nell'ultima parte dello speciale 1000 iscritti e oggi siamo con quest'ultimo blister di 5 dei calciatori panini, io direi di procedere con l'apertura, siamo arrivati purtroppo già alla fine spero che comunque vi siano piaciuti questi video, questo nuovo prodotto della panini con cui risparmiate 70 centesimi perché c'è una bustina in omaggio che non è niente male, anche perché devo dire che abbiamo trovato parecchie cose anche nella bustina omaggio, si trovano belle carte ragazzi a parte il codice che non si trova, per il resto è un pacchetto normalissimo e devo dire il colore mi piace anche di più di quello del verde classico ma prendo il solito cartoncino ed ecco qua i nostri 8 pacchetti speriamo di trovare sulle 8-10 mancanti, sarebbe perfetto di più mi farebbe davvero contentissimo ma io appunto a una dell'amoli che manca non l'abbiamo vinto, Roberto De Zerbi ormai, i tanti esonerati, anche Zampanisiato esonerato penso che ne abbiamo 50, Frosidone, già l'abbiamo finito Freuler, mi sembra che lo abbiamo forse oh, Totti in piedi ci manca da controllare penso di ci metto noi Totti di Pupone non l'abbiamo ragazzi, signori controlliamo, a me sembra di ciò controlla, a me sembra di no no, abbiamo Diavoli in Paradiso, l'Inter che alza la coppa è un'altra, Maldini forse, no andiamo subito ragazzi, l'abbiamo l'abbiamo? mannaccia, aveva ragione con una benissima carta è la carta veramente ci abbiamo sperato tanto in questi giorni di trovarle bene primo pacchetto, dei 20 proviamo adesso col secondo speriamo di riprenderci ci salverà la manita non l'abbiamo vinto abbiamo trovato Eder Eder controlla non ne so sicuro forse già lo abbiamo no già lo abbiamo peccato poi Perugia ah Trotta lo abbiamo Abate la vita è come un cross di Abate non sai mai come andrà a finire e Angelo da Costa peccato ragazzi sta andando malino vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa dobbiamo chiudere in bellezza invece invece chiudiamo così questo speciale mi dispiace non è ancora finito però ragazzi magari potremmo riprenderci scudetto del toro è il garanti dovrebbe mancare speriamo manca ottimo gli scudetti non si trovano mai ragazzi ottimo questo è un ottimo carta tre giocatori e la deletezia Cristoforo Samir anche io l'ultimo è un giocatore è l'Inter che si chiama? no Miranda non me lo ricordo Miranda sicuro? Samir manca e l'altra carta da controllare è Miranda Samir manca mettilo se passa il Cristoforo lo abbiamo peccato vabbè comunque due carte in un pacchetto ok quarto pacchetto siamo andati in male ragazzi non va per niente bene però abbiamo due mancanti siamo ripresi ragazzi qualcuno dell'Avoli dai tocca la manita dai 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 forza ok qui troviamo tanta bella roba beh qualcuno del Napoli lo troviamo qua o almeno qualcuno che manca Micelizze che dovremmo avere da controllare controllo tra il Benevento ragazzi è una maledizione del Pinto Melara e Cibsa penso che li abbiamo tra i 10 e i 15 se li volete ve li regaliamo come si chiama il giocatore dell'Ampoli? Micelizze ragazzi paletta paletta forse è una delle poche cose che salva insieme ai suoi capelli forse ok andiamo al prossimo pacchetto 3 carte trovate speriamo bene non hai vinto immobile Ciruzzo dando serve Lulic però poi Bado al Frosinone basta ragazzi è finito Badel no Baselli manca Baselli ragazzi Baselli non l'ho mai visto perciò manca ragazzi Baselli ottimo e Lulic manca solo la maglia ragazzi ma che pacchetto ragazzi la manita magica colpisce ragazzi ok ragazzi questo spacchettamento può essere speciale se troviamo la maglia della Lazio hashtag la supermanita dai facciamo la storia ragazzi la storia di spacchettamento la maglietta della Lazio ragazzi siamo in tre mila allora si si ragazzi ragazzi sta diventando il miglior spacchettamento di questo speciale Novara scuola della Provercelli che se non sbaglio manca Lick Styler che abbiamo peccato e Perin che abbiamo dobbiamo controllare la squadra di Provercelli manca la squadra di Provercelli manca la squadra di Provercelli ragazzi ternana salzato manca manca l'avevo visto Icardi mi dai Icardi mi dai Icardi quante persone ce l'hanno chiesto ragazzi in questi giorni Lucas Torreira mamma mia troviamo questo Lucas Torreira che mi sembra abbastanza lungo ok Torreira manca manca anche Torreira ragazzi lo sapevo che era speciale e ora il pacchetto omaggio ragazzi chiudiamo in bellezza dorato la maglia della Lazio ragazzi vogliamo Sarri l'ho trovato sì lo volevo non si apre forse un buon segno Luciano Spalletti lo abbiamo però Cisena Lorenzo Tonelli Napoli lo abbiamo Totti in piedi ancora ragazzi può sedersi adesso Bizzarri Bizzarri controlla mi sa che lo abbiamo però peccato mamma mia comunque bella vettura bella vettura c'è salvato Bizzarri manca Bizzarri manca ragazzi si salva alla fine mi sa che questa è la migliore apertura che abbiamo mai fatto partita omale poi i pacchetti avanti fantastici uno Salzano ottimo Samir Bizzarri Torreira squadra della Provercelli Maurizio Sarri due stagioni due squadre Empoli e Napoli Lulic ci manca solo la maglietta e l'abbiamo finito Baselli Paletta e lo scudetto 10 carte mancate ragazzi ragazzi tantissima roba questa apertura tantissima roba veramente sono soddisfatto questo speciale direi che è stato molto bello spero che vi sia piaciuto se così è stato mettete un bel mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi al nostro canale beh da Paranormal Comics è tutto per questo speciale è tutto bella grazie a tutti